Buongiorno, venerdì 8 dicembre, buona festività dell'Immacolata a tutti. Andiamo a dare subito un'occhiata ai titoli oggi, in primo piano, sui quotidiani nazionali e locali. Nella nostra rassegna stampa, e allora, cominciamo dalla Repubblica edizione nazionale. Il candidato Draghi, l'Europa delle riforme, da Parigi. Il piano di Macron per il dopo elezioni europee. Scegliere l'ex premier per la guida della Commissione. Pressing su Berlino e Roma. Patto di stabilità, maratona negoziali a Bruxelles, gentiloni, un accordo è possibile. E sugli extra profitti, il governo sconta 450 milioni ai colossi energetici. Dunque il presidente francese Macron apre la campagna delle europee. Il nome a sorpresa per succedere a Ursula von der Leyen, alla presidenza della Commissione UE, è Mario Draghi. L'ex presidente del Consiglio italiano è il campione, su cui Macron, dopo aver promosso cinque anni fa la candidatura dell'attuale presidente, vuole scommettere. Sul patto di stabilità è maratona nella notte a Bruxelles. Intanto il governo italiano approva una norma con cui le società energetiche e del petrolio risparmieranno 450 milioni sulle imposte del 2023. La prima del Don Carlo dall'Oggione della Scala, viva l'Italia antifascista, acclamata Liliana Segre, il palco reale. Ieri non c'era Mattarella, non c'era il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma c'era appunto la senatrice Segre con sua figlia, tra il presidente del Senato, la russa, Salvini e il sindaco. Sala dal foyer, no ai femminicidi in abiti rossi e viola, ieri la sfilata di tanti personaggi, tante star, tutti in abito rosso e viola contro i femminicidi. Di spalla i diritti nostri giovani, ansiosi e sfiduciati, lontani dalla politica, un intervento di Ilvo Diamanti, la questione giovanile è sempre più attuale in Italia più che altrove, perché il nostro paese è il meno giovane d'Europa e lo sarà sempre di più, non solo per il basso indice di natalità, ma perché i nostri giovani se ne vanno all'estero. E poi un'altra novità, donne e matematica, le conseguenze degli stereotipi. L'Italia è il paese con più divario di genere nelle competenze in matematica, tra i quindicenni a svantaggio delle ragazze, ma la maggioranza degli insegnanti di matematica è donna, perché il gap di genere in matematica è di circa 21 punti percentuali. La guerra in Medio Oriente, Israele cattura a Gaza decine di sospetti terroristi all'interno, i reportage. E allora, nell'approfondimento, il patto di stabilità europeo, lo spettro di una manovra correttiva, già nel corso del 2024, dopo l'avvio della procedura di infrazione, e sul fondo Salva Stati la ratifica è in calendario, ma il Governo vuole un rinvio, un altro rinvio. Il Governo si prepara a far slittare ancora una volta la ratifica del MES, anche se ieri il direttore del Salva Stati, Pier Grammegna, si è detto fiducioso su una svolta per la prossima settimana. Non andrà come auspicato. La ratifica, infatti, è al penultimo punto dell'ordine del giorno, della seduta del 14 dicembre, che sarà in realtà assorbita dal decreto anticipi. E sulla promozione di Draghi alla guida della Commissione europea, c'è il piano di Macron per salvare l'Europa, quali sono i punti fondamentali? Il vecchio patto, sospeso per la pandemia e la guerra, il patto di stabilità, senza un accordo tra i partner europei per la riforma, tornerà in vigore nel 2024, con i tetti storici, quindi 3% di deficit annuale massimo per i Paesi dell'Unione, e 60% del debito pubblico. Qual è la proposta di aprile della Commissione europea? Per chi è oltre i limiti di concordare con i singoli governi i piani di rientro plausibili di 4 e 7 anni per i Paesi ad alto debito, la riduzione media è dell'1% annuo. La Germania sta ottenendo l'appoggio della Francia e della Spagna, con il Presidente di turno, per tenere nel nuovo patto vincoli numerici tassativi di riduzione del deficit e del debito. Sono questioni molto importanti che si dovranno decidere prima delle elezioni europee e che appunto interessano tutti gli Stati. Lo sconto di Natale per le imprese dell'energia. Il DL anticipi esonera le compagnie dal pagamento dell'ultima tranche della tassa sugli extra profitti. Bonelli dice che Meloni e Robin Hood, al contrario, la norma nella legge di bilancio del 2023 era stata inserita, una norma che prevedeva un prelievo del 50% degli extra profitti delle società energetiche. L'ultima tranche per il versamento della tassa doveva essere pagata entro il 30 novembre dalle aziende energetiche Eni ed Enel. Secondo i dati di bilancio, dal 2021 ai primi nove mesi del 2023 le società energetiche italiane hanno registrato utili per 70 miliardi di euro. Le reazioni dell'opposizione PD e 5 Stelle dicono che non riducono le bollette agli italiani e approvano un nuovo condono. Poi la pagina dedicata a questa prima serata bellissima tra il pubblico, tra gli ospiti della Scala ieri sera al Don Carlo, anche Pedro Almodovar con il soprintendente del teatro Dominic Maier e sotto la cantante Patti Smith che ha voluto presiedere alla prima della Scala. E ancora nelle pagine interne la politica, le primarie archiviate che dividono il Partito Democratico sono un valore basta con i dogmi. La discussione scompì alle correnti, Schlein è stata eletta dai Galzebo che ostacolano l'alleanza con i 5 Stelle alle amministrative e ci sono appunto i favorevoli Matteo Orfini e il bonacciano Alessandro Alfieri che dicono sì alle primarie, i critici come l'ex ministro Andrea Orlando e il sindaco Dario Nardella. Modello Foggia già in crisi, la lite per le poltrone fa vacillare il centro-sinistra, la sindaca del campo larghissimo di Foggia non riesce a varare la giunta, su di lei pende un ricorso per incompatibilità. Usciamo dall'edizione nazionale di Repubblica, andiamo a vedere il Roma. Doppia apertura, battaglia per la nostra pizza, i migliai al villaggio Coldiretti, traffico in tilt, lira dei ristoratori, siamo nel centro di Napoli, davanti al municipio, il grande villaggio di Coldiretti, ieri con Tajani e De Luca. E poi, di spalla, salto alla Juve per rinascere. Alle 20.45, oggi il Napoli a Torino per rifarsi dal K.O. con l'Inter. Cittadinanza Spalletti, ieri ora sono uno scugnizzo napoletano. Ancora concorso all'Asla Napoli 1, idonei verso l'assunzione al via lo scorrimento delle graduatorie. Strazzullo Cirella, una guerra sotto l'occhio delle telecamere, 5 indagati per la stesa di via Cucca. Fondazione Banco di Napoli, archivio da digitalizzare ed esportare, domenica l'omaggio ai lettori con il Roma. Fine del mercato tutelato, bollette, l'11% delle famiglie in povertà energetica. I medici, allarme Natale, Covid in Campania, positività oltre il 13%. Il rogo in piazza Municipio incendiò la Venere, 4 anni a Isaia. A Caivano, al Parco Verde, ora c'è un'altra area giochi dedicata alla memoria di Fortuna e Antonio. Andiamo a vedere nelle pagine interne. Campania, 11 famiglie su 100 sono in povertà energetica, sempre di più le persone che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette, come stimato dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Famiglie che devono affrontare il caro bollette, crisi energetica, crisi climatica e che spesso si ritrovano poi a dover vivere talvolta in abitazioni che vanno ad aggravare la loro spesa energetica. Lo evidenzia Lega Ambiente nel presentare il dossier civico 5.0. La qualità dell'abitare tra decarbonizzazione efficientamente e nuovi stili di vita. Ma a fronte dei pochi programmi di rigenerazione urbana, il principale strumento di promozione è stato proprio il super bonus, nonostante le criticità proprio rispetto alla ricaduta sui contesti più vulnerabili, stante la difficoltà di accesso al credito, soprattutto per i ceti medio-bassi, e stante le difficoltà connesse alle procedure burocratiche e progettuali. Ancora sul Roma difendere la nostra pizza, l'evento, l'inaugurazione in piazza Municipio con migliaia di studenti e giovani imprenditori, la battaglia sulla carne artificiale si sposta in Europa, noi leader di qualità e sicurezza alimentare. Quanto ai marchi DOP, DOC e IGP al sud, molto poco riconosciuti, per Prandini, che è bresciano, il problema non si pone. Nel mezzogiorno ci sono più operatori DOP e IGP rispetto al resto del paese e vanno tutelati. Ancora Giulia Tramontano, l'Ambrogino alla memoria, il riconoscimento per la 29enne di Sant'Antimo uccisa dal compagno alla cerimonia a Milano di anche i genitori, la sorella e il fratello, la famiglia di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant'Antimo nel napoletano, incinta di sette mesi, uccisa lo scorso maggio a Senago nel milanese dal compagno Alessandro Impagnatiello, è salita al Gran Completo in Lombardia per ritirare l'Ambrogino alla memoria assegnato alla vittima di femminicidio. Alla cerimonia al teatro dal Verme di Milano c'erano i genitori Franco e Loredanna, la sorella e il fratello di Giulia, oltre all'avvocato Giovanni Cacciapuoti. Ancora sul Roma, allarme Covid sul Natale in Campania, 3.500 nuovi casi in una settimana, positività al 13,3%, i numeri sono in crescita, i medici di base napoletani dicono che serve un aumento delle vaccinazioni, pazienti fragili a rischio. Dramma a Maddaloni, si suicida nel giorno della laurea, il 25enne studente casertano della Federico II, giù dall'acquedotto Carolino, ha deciso di farla finita gettandosi dal ponte dell'acquedotto che sovrasta la valle di Maddaloni. Antonio, 25 anni, studente originario del casertano, ha lasciato un biglietto ai genitori in cui spiegava i motivi del gesto. Il giovane, secondo indiscrezioni, avrebbe dovuto laurearsi proprio ieri. sono in corso accertamenti sui motivi del tragico gesto, anche con riferimento proprio al percorso universitario. Non è la prima volta, infatti, che accade un episodio del genere, purtroppo. Andiamo avanti. A Pagani, vi abbraccio forti al cuore, una mostra presso la biblioteca regionale per ricordare Marcello Torre, il sindaco gentile, trucidato dalla Camorra nell'80 per il suo impegno contro l'allora potente bossa Raffaele Cutolo. Ancora a Salerno, estorsioni e rapine, tre arresti, chiedevano il Pizzi, obbligavano persone a prelevare dal Bancomat sotto minaccia. E sull'immigrazione tavola in prefettura per l'accoglienza, siamo sempre a Salerno, il prefetto esposito dice lavoro congiunto per migliorare sempre di più il sistema di integrazione sul territorio. Ancora dalle aree interne a Benevento dovete pagare, qui comandiamo noi, in cardinato il processo per l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia per estorsione nel Sannio. In aula, i fratelli Iadanza, Silvio, 34 anni, e Vincenzo, 31, a processo per una irruzione con una richiesta di Pizzo. Ad Avellino, aste truccate, udienza sospesa, clima teso durante il controinterrogatorio, il giudice ferma più volte l'udienza. E sempre a Benevento, clan Pagnozzi sfilano gli indagati seconda giornata di interrogatori dopo i 23 arresti della DDA. A Napoli parte l'assunzione per gli idonei all'Asla Napoli 1, vittoria del comitato dopo due anni, appello a De Luca e scorrimento delle graduatorie. Oggi si vede una luce in fondo al tunnel. Usciamo dalla Roma, andiamo a vedere l'edizione napoletana di Repubblica. Il ponte dell'Immacolata via Marina un'ora di auto, 200 bus turistici bloccano il centro, grande affluenza nel villaggio del gusto in piazza municipio Folla a San Gregorio ma ci sono molti disagi per i torpedoni il comune ora ingressi più rigidi. Di spalla la cerimonia Spalletti è napoletano ma preferisco dire scugnizzo ufficiale il sindaco Manfredi conferisce al tecnico la cittadinanza onoraria al maschio Angioino a botta e risposta con De Laurentiis. Mazzarri contro Allegri il fascino antico della sfida alla Juve la partita oggi alle 20.45 allo Stadium non chiamatela Allegri contro Mazzarri amici mai soprattutto in passato ma stavolta l'approccio è diverso. il processo bruciò la venere degli stracci il clochard condannato a quattro anni di reclusione e poi inaugurazione al Museum della Sanità l'ultima scultura di Iago è Narciso l'uomo che si specchia in una donna. Mezzo secolo fa Ennio Flaiano definiva già la contemporaneità quanto mai favorevole a Narcisi e non aveva potuto conoscere l'esibizionismo dei social e l'inadeguatezza del mondo liquido Mito indagato dalla pittura da Caravaggio a Dalì Narciso è stato cantato anche da Melville e Bob Dylan un crossover di linguaggi intorno al giovane vanitoso figlio di un dio e di una ninfa oggi in una statua bellissima una scultura realizzata dall'artista Iago autore anche del Cristo Velato nelle pagine interne San Gregorio la grande attesa ma gli artigiani parlano di turismo povero presidi dei vigili e segnaletica oggi previsto l'ingorgo pedonale botteghe aperte ieri fino a mezzanotte per la notte bianca dei presepi successo di pubblico sì con laboratorio NEIR visite guidate presepiai al lavoro dal vivo e questa è un'immagine della notte bianca di San Gregorio Armeno e poi ieri il sindaco ha detto sosteniamo la candidatura della cucina italiana nella lista UNESCO feeling di De Luca con Coldiretti attacca la legge contro il cibo sintetico e il segretario Gesmundo legge un passo del libro del governatore in cui elogia Meloni ancora andiamo a vedere la prima pagina di Cronache di Napoli fuori grotta i troncone conquistano cavalleggeri colonnelli della paranza si sono stabiliti nel rione si fanno vedere in strada approfittano del vuoto di potere tra i rivali dopo gli arresti allerta degli investigatori di fatto sono state aperte le ostilità con i clan di Bagnoli a Napoli città solda otte un ponte d'oro ma l'accoglienza è da rivedere le strade dei turisti in base ad accumuli di rifiuti e degrado il capoluogo tra visitatori e spazzatura indotto economico di circa 60 milioni bene i settori di ristorazione e abbigliamento a Casoria incendiata un'agenzia di pompe funebri un uomo incappucciato ha piccato il fuoco da pezzella in via Marconi e in via Russini piombo contro l'American Bar a Giuliano ore di ansia per i familiari di una ragazza di 26 anni scomparsa nel nulla ieri pomeriggio a Napoli si chiama Claudia Giannetto una studentessa di lingua all'Università all'Orientale oggi mi laureo ma non era vero studentessa fa perdere le tracce un collega intanto della Federico II sembra si sia ucciso per lo stesso motivo Calcio Serie A Juventus-Napoli Napoli per uomini veri Mazzarri non siamo inferiori a nessuno l'inchiesta sui bilanci dei bianconieri si allarga la Procura di Roma ha acquisito dei documenti a Bosco Reale pescivendolo ucciso preso il killer sarebbe stato il 31enne ad uccidere il commerciante il 23 dicembre del 2021 arriva la svolta nelle indagini sull'omicidio di Antonio Morione il pescivendolo ammazzato a colpi di pistola nel suo negozio la sera del 23 dicembre del 2021 durante un tentativo di rapina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Vangone affiliato all'omonimo clan ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio le cronache di Caserta e qui l'apertura è dedicata allo studente di Maddaloni che si è ucciso gettandosi nel vuoto era iscritto la Federico II non era in regola con gli esami ora è di angoscia anche per una collega dell'orientale aveva annunciato la fine degli studi ed è sparita Caserta città universitaria pronta la AIR l'amministratore a Concia previsti nuovi collegamenti aggiorni il piano trasporti il progetto sarà compatibile con lo studentato da realizzare in via Barducci e con il policlinico l'azienda assicura Anthony Acconcia non si farà trovare impreparata San Felice a Cancello tenta di dare fuoco alla compagna preso ha cercato anche di strangolarla la donna è scappata con i tre figli da una vicina e ha chiamato i carabinieri è stata picchiata dal compagno convivente con schiaffi e pugni l'uomo aveva anche tentato di strangolarla di darle fuoco con una bottiglia di alcol fortunatamente la donna scappa con i tre figli presso una vicina di casa e chiama i carabinieri l'uomo è stato arrestato domani l'udienza di convalida serie C alle 17 in palio il secondo posto sfida a Z Picerno Casertana i falchetti pronti a sorpasso scusa e ancora la politica di spalla la squadra campana di fratelli d'Italia ha raccolta la festa di Atreiu e Schlein da Forfè segno di debolezza usciamo dalle cronache di Caserta andiamo a vedere le cronache di Salerno doppia apertura una rosa nel cuore dalla militanza sindacale ai giorni dell'epidemia e dell'antipolitica il libro di Giovanni Paonessa poi la scomparsa di Cesare Festa in primo piano Missino Doc la sua sfortuna fu quella di diventare sindaco a Pisciotta fu perseguitato dai giudici ancora l'intervista al medico salernitano dalla Croce Bianca a Milano il cardiologo Verolino che ha salvato Scarnecchia ruggi certe scelte possono essere state discutibili poi la serata del 31 presenta Pippo Pelo i Poo su Facebook ufficializzano Salerno e bruciano l'annuncio al comune la squadra Granata da oggi in ritiro blitz di Iervolino con tecnico e giocatori il patron chiede la svolta contro il Bologna andiamo a vedere la città di Salerno ruggi i suoi tesori fittati per pochi soldi a Salerno canoni stracciati nel centro storico in via mercanti negozio versa 4.000 euro l'anno un immobile 22 euro al mese l'azienda universitaria 120 fabbricati e 32 terreni eppure in cassa soltanto 198.000 euro il caso degli abusivi Salernitana centropagina la lezione di Iervolino per restare in serie A diamo una sterzata la nostra stagione Danilo Iervolino scende in campo al fianco della sua salernitana prova a caricare l'ambiente dopo la rabbia per il K.O. di Firenze ieri ha deciso di far rotta su Salerno e piombare al centro sportivo Mary Rosi Salerno truffa milionaria col super bonus 40 indagati a Sarno un bibbo fugge a 7 anni lo salvano nel canale e poi ad Auletta si rovescia con il trattore un pensionato ha perso la vita andiamo a vedere adesso la prima pagina della notizia governo in ginocchio con i forti dopo il regalo alle banche adesso rinuncia a tassare gli extra profitti sull'energia la rinuncia a tassare gli extra profitti delle banche ha spinto i colossi dell'energia a farsi restituire quanto già versato su richiesta del governo Draghi così chi ha detto no al salario minimo farà ancora più ricche le aziende di luce e gas destre a pezzi fuoco amico contro Crosetto economia al palo la produzione industriale mette il freno basta lavoro povero salario minimo movimento 5 stelle sinistre non si arrendono andiamo a vedere adesso il Corriere dello Sport all'Allianz alle 20.45 in gioco il futuro di due grandi Juve-Napoli sfida verità per Allegri e Mazzarri arriva la sentenza scrive il Corriere dello Sport Max recupera Danilo e Locatelli in attacco punta su Vjakovic di Chiesa Walter scommette su Gesù centrale e Nathan a sinistra ADL e Mazzocchi l'idea per gennaio a piedepagina a Roma che numeri ha Mourinho giallorossi terzi nel possesso e dietro solo all'Inter per palle gol e poi c'è un'intervista al De Santis che dice con D.A. e Sosa ho sbagliato il DS della Salernitana ammette un errore farli restare ma ci salveremo andiamo a vedere adesso la home page di 8 pagine punto it ponte immacolata attesi in campagna a 220 mila turisti giro d'affari da 80 milioni di euro comincia oggi il ponte dell'immacolata un lungo ponte i dati stimati dalla ConfCommercio per Napoli e Campania sono molto molto buoni Vincenzo Schiavo il presidente dice quasi la metà sono anche turisti stranieri un indotto importante per tutte le categorie questo trend va regolato migliorando sicurezza ed accoglienza boom di turisti a Napoli e in Campania il 75% ovvero 60 milioni di incasso arriva appunto dal fatturato di Napoli la Campania vanta un numero da record a livello europeo nel settore turistico con i 220 mila turisti in arrivo dei quali circa il 47% provenienti dall'estero e poi in questi giorni ma lo dicevamo anche prima stanno arrivando decine di autobus turistici oltre 200 che si sono prenotati e che trasportano altrettanti gruppi di turisti arriveranno appunto tra oggi e domenica circa 7-8 mila al giorno e ancora sulla prima pagina di 8 pagine Droga a Scampia aumenta la vendita al dettaglio per le feste di Natale a Ravellino un tir si blocca sulla rampa code e disagi sulla variante a Salerno è stato acceso ieri il grande albero di Natale in piazza Portanova tanta emozione tra i presenti il sindaco doniamo speranza e serenità ai nostri visitatori il medico napoletano il medico napoletano parrella presidente della società di malattie infettive prestigioso riconoscimento per il camice bianco in servizio all'ospedale Cotugno e ancora per il ponte dell'immacolata a Napoli camere a 300 euro a notte arriva anche l'allarme di Abac contro speculazioni e rincari quindi bene l'arrivo del turismo ma attenzione bisogna accertarsi che gli annunci siano autorizzati e anche verificare la qualità dell'offerta ricettiva e dell'accoglienza ci sono viaggiatori che stanno prenotando anche in questi ultimi minuti camere bed and breakfast non mancano i rincari speculativi l'Abbac lancia un vademecum è un andamento chiaramente positivo ma bisogna fare attenzione la nuova legge regionale impone che anche le locazioni brevi comunicano ai comuni l'avvio di queste attività e seguano tutti gli obblighi previsti dalla legge in genito dell'Abbac dice auspichiamo che vi sia una sempre maggiore sinergia con le istituzioni perché appunto anche a Napoli si possa offrire una ricezione di qualità ancora a Benevento la cronaca scontro tra due auto nel fortore donna in codice rosso al Sampio incidente a base licee automedica da San Marco dei Cavoti ambulanza da Ginestre Benevento a Capaccio atti persecutori e maltrattamenti nei guai due uomini lotta la droga arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di 30 grammi di cocaina queste le ultime notizie su ottopagine punto it chiudiamo così la nostra rassegna stampa dell'immacolata restate con noi oggi tanta informazione su otto channel arrivederci A presto